ciao a tutti sono viki e benvenuti ad un nuovo video un video come non ne faccio spesso ma come potete vedere dal titolo recensione trash io non voglio mai basare il mio canale sulle recensioni trash mi capita di parlare di libri che considero trash nei wrap up e proprio quando c'è tanto da dire magari ne faccio un video e questo è uno di quei casi prima di cominciare vi ricordo come sempre che se volete supportare il canale potete farlo o acquistando i titoli di cui parlo o cose vostre a piacere dai link di affiliazione amazon che vi lascio nel box info oppure potete offrirmi un caffè simbolico tramite il sito coffee che vi lascio sempre qui sotto il titolo preso in causa oggi è il signore della notte eterna di ben alderson un retelling della fiava della bella e la bestia in chiave mm e anche paranormal perché i due personaggi principali sono un vampiro e uno stregone edito queen edizioni all'inizio mi aveva colpito il primo capitolo era intrigante e lasciava presagire una bella storia però poi iniziano i dolori tanto da aver portato a una rispolverata della rubrica trash il video sarà pieno zeppo di spoiler perché vi dirò praticamente tutto quello che succede durante il libro perciò sta a vostra discrezione continuare o meno con la visione del video perciò 3 2 1 cominciamo partiamo col dire che l'ambientazione inizialmente non si capisce bene se sia medievaleggiante o similvittoriana anche se poi andando avanti protendo per questa seconda opzione però diciamo che la cosa non è chiarissima conosciamo subito jack un ragazzo di 21 anni che fa parte di una congrega di streghe che non possiede più poteri magici a causa di una maledizione tutti tranne lui che può governare gli elementi la maledizione è in qualche modo legata a un'altra che ha colpito il signore di un castello che sorge nelle vicinanze del villaggio di questa congrega una creatura misteriosa e pericolosa che se dovesse uscire fuori dai confini del castello diffonderebbe il male ogni anno una persona chiamata rivendicato viene inviata al castello con lo scopo di rimanerci un mese per poi in una notte precisa venire uccisa dalla creatura da questo signore jack in virtù dei suoi poteri magici è stato cresciuto sin da piccolo con lo scopo di diventare un giorno un rivendicato far innamorare la bestia questa creatura di sé per poi ucciderla in una specifica notte di luna rossa praticamente funziona così la maledizione verrà spezzata per la congrega di streghe per le streghe se jack riuscirà a uccidere la creatura mentre verrà spezzata soltanto la maledizione della creatura se questa riuscirà ad uccidere jack se questa ucciderà jack la trama di base è anche carina e in realtà somiglia per alcuni aspetti a nella casa della bestia di rosalie hox un altro retelling della fiaba di della bella e la bestia in chiave mm tra l'altro edita sempre da queen edizioni peccato che però dopo il primo capitolo il signore della notte eterna va a meretrici entrato nel castello jack scopre che il signore ha una forma umana questi capelli bianchi questi occhi rossi canini accuminati la pelle pallida e insomma è lui il vampiro della storia first reaction shock come prima azione jack che è stato addestrato tutta la vita per fare innamorare la bestia di sé che cosa fa da di matto e colpisce insomma il signore quando questo gli mette le braccia cioè le mani sulle braccia complimenti jack l'addestramento è servito a molto il vampiro si arrabbia da morire fa una scenata e lo rinchiude in una stanza per le successive due notti jack viene aiutato da qualcuno che vive all'interno del castello che però risulta invisibile costei perché ha una voce femminile gli da la chiave della stanza in cui è rinchiuso in modo che lui possa uscire e gli fa trovare in una stanza tutto un ben di dio di cibo un vero e proprio banchetto ogni notte però a un certo punto jack stanco di aspettare l'arrivo del signore cioè che si rifaccia vivo signore che tra l'altro scopre chiamarsi marius e il fatto che si chiami sia un vampiro e si chiami come il marius delle cronache dei vampiri mi triggera un pochino dicevamo jack stanco di aspettarlo invece di cercarlo per il castello che comunque ha la possibilità di uscire dalla sua stanza cosa fa per smuovere le cose da fuoco alla propria stanza rischiando di rimanerci secco come intelligente questo ragazzo marius lo salva e cosa fa successivamente jack si rimette nei guai tra l'altro usando la propria magia cosa che non dovrebbe assolutamente fare perché non è il caso che marius scopra dei suoi poteri e chi sia in realtà ma comunque jack questi poteri userà continuamente marius lo risalva e dopo lo invita a cena dicendogli che lo trova interessante ma perché trova interessante questo idiota che si mette sempre nei casini che lo fa scomodare ogni volta che ha pure rischiato di uccidere qualcuno a cui marius tiene e con cui non ha mai parlato realmente ovvio perché jack è bello e quindi va tutto bene sicuramente lo avrebbe trovato un po meno interessante se fosse strato bruttarello poi jack coerentissimo perché non vuole che l'altro lo tocchi però deve farlo innamorare di sé quindi sai la cosa potrebbe rivelarsi necessaria però si veste in modo da lasciare scoperta la gola e flerta con lui e qui ci sono un po di dialoghi inconsistenti e insipidi che dovrebbero farci apparire marius affascinante e misterioso ma l'obiettivo non viene raggiunto dopo la cena jack lo sente parlare marius con un'entità invisibile perché come vi dicevo prima ci sono delle entità invisibili in questo castello che preparano cibo e fanno cose e da questa conversazione capisce che marius si sta innamorando di lui ma la domanda sorge spontanea perché si conoscono appena hanno parlato a malapena e del niente poi jack va a letto e fa un sogno erotico su marius quindi anche lui è andato e senza motivo alcuno se non quello che il vampiro è un figone ovviamente sti due sono rimasti attratti l'uno dall'altro sin dall'inizio come nei migliori o peggiori armoni chissene se jack dovrebbe essere quello addestrato da tutta la vita a uccidere la bestia sbaglia e vacilla sin da subito ma non sarebbe stato meglio se veramente inizialmente fosse stato nella parte per poi magari cedere piano piano è così che si delinea un buon personaggio e soprattutto un innamoramento di un enemies to lovers marius successivamente gli rivela che lui non uccide volontariamente i rivendicati ma l'ultima notte quella della del plenilunio della luna rossa perde il controllo e anche che vorrebbe uccidere la discendenza della strega che lo ha maledetto di cui fa parte anche jack bene ma non benissimo comunque tornando all'ambientazione vengono utilizzate frasi espressioni troppo moderne per il contesto tipo cambiare look che magari mi sbaglio però mi sembra veramente moderna come come espressione ma alla fine questo forse è l'ultimo dei mali poi jack contatta sua madre tramite la magia che non dovrebbe usare di notte ma ovviamente la usa di notte nonostante possa essere scoperto da marius ma vabbè cioè adesso l'ho perso ma lo diceva proprio testuale tipo non dovrei farlo di notte però non posso resistere una cosa del genere tipo perché allora sei cretino cioè ricordiamoci che questo tizio è stato addestrato tutta la vita e agisce goffamente in maniera scriteriata in ogni cavolo di istante ma cosa sto leggendo inoltre il libro ci dice che i due si stanno avvicinando senza che ci siano proprio le basi di una sorta di intensità quando arriva il primo bacio non si prova niente perché è un rapporto che si basa sul nulla inoltre c'è una frase che mi ha fatto morire che volevo riportarvi ma ho perso lo screenshot dove praticamente c'è marius tipo sdraiato per terra e jack nota che la gravità modifica la sua pelle ma è stranissimo veramente stranissimo ora cioè non vorrei addentrarmi in cose di scienze diciamo che non mi competono ma è possibile sta cosa cioè nel senso po e continuano a volerci far credere che marius sia affascinante ma il fascino di una banana e la capacità di conversazione di un pollo a questo punto jack comincia insomma a rendersi conto che marius non è cattivo e inizia a mettere in discussione la propria missione dopodiché fanno un bagno alle terme finiscono in camera da letto a fare cose ovviamente marius ha un attrezzo enorme perché non sia mai ovviamente lui è diverso dagli altri uomini che già accaduto in passato e da dopo che lo fanno il loro amore diventa improvvisamente speciale profondo perché nessuno condivideva testuali quello che condividevano loro ma cosa di preciso non si sa successivamente viene rivelata la verità del passato mi aiuto leggendo un attimino le questioni di trama che marius si era innamorato dell'uomo che era stato promesso sposo alla strega che per vendetta ha scagliato la maledizione così marius succede il suo amato come farà poi con tutti gli altri vendicati perdendo il controllo in quella fatidica notte jack litiga con la madre a distanza perché ovviamente non vuole più fare quello che è stato mandato a fare e rivela a marius la verità sulla sua presenza lì e sui suoi poteri marius si arrabba tantissimo non vuole più vederlo eccetera eccetera e arriva il giorno fatidico marius perde il controllo ma non come ci potremmo immaginare tipo diventando animalesco no cambia personalità diventando un cretino ridacchiante che va inseguendo jack per il castello un po tipo gatto col topo dai impegnati fammi divertire tra lalla rendimi questa caccia interessante eccetera perché da trama ovviamente non poteva ucciderlo davvero no il nuovo piano di jack è raggiungere il mattino senza venire ucciso e senza uccidere nessuno e continua nel mentre a usare i suoi poteri nella maniera meno affascinante possibile cioè tipo a raffica una volta il fuoco una volta il vento così perché devono farceli vedere tutti questi poteri e il libro sta finendo quindi bisogna affrettarsi a questo punto succedono un po di cose alle porte del castello arriva la madre di jack è arrivato il mattino senza che nessuno sia morto la barriera che delimitava diciamo questo castello si dissolve marius torna normale e spinge già più fuori lontano dal castello tipo per metterlo in salvo solo che qui viene ucciso dalla sua stessa madre perché ovviamente ha tradito la congrega eccetera arrabbiatissimo marius uccide la donna e trasforma jack in vampiro in quanto unico modo per salvarlo fine anzi no adesso diventeranno un duo conte di monte cristo style andando a vendicarsi uccidendo tutte le streghe della della congrega vi assicuro che ve l'ho reso più interessante con questa recensione dialoghi insipidi personaggi senza spessore che agiscono a cavolo di cane storia d'amore inconsistente per me una delusione totale per carità i gusti sono gusti se a voi libro è piaciuto sono contentissima per voi questa naturalmente era la mia opinione portata alla vostra attenzione in maniera spero divertente ho anche scoperto che è tipo il primo libro di una serie che io non voglio più vedere nemmeno da lontano molto bene il video finisce qui spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like ed iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se avete letto questo libro avete intenzione di leggerlo se la pensate come me o diversamente parliamone nei commenti nel frattempo io vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao